bene allora vediamo 5 opportunità di trading per il mese di maggio su sterlina dollaro nel video precedente abbiamo visto la stessa cosa per euro dollaro faremo questa analisi dei dati mese dopo mese in modo che possa spiegarvi gli eventi tutto questo lavoro ci è utile da un punto di vista previsionale per scoprire per studiare come le nostre opportunità si formano e come reagiscono e quali sono le azioni che vanno messe in opera sulla base della reazione che si va a sviluppare ok è un lavoro di ricerca e pianificazione io poi vi invito ad approfondire lo studio di questi dati consultando le pubblicazioni che io riporto nel canale di ricerca su youtube un altro canale youtube parallelo dove invece parliamo solo di ricerca ok qui vediamo di fare invece ogni tanto un'analisi di dati una volta al mese per studiare appunto un insieme di eventi in modo di darvi qualche indicazione che poi appunto può essere poi approfondita nel canale di ricerca andiamo a vedere quindi le cinque opportunità che sono emerse nel mese di maggio su sterlina dollaro voglio solo precisare perché ho detto alla fine del video precedente dove appunto ho parlato di euro dollaro una piccola inesattezza ho parlato di questa opportunità come l'unica opportunità in profitto per il mese di maggio effettivamente è stato così però ho detto ho lavorato sulla stessa opportunità su sterlina dollaro invece no poi sono andato a verificare sul mio storico ho lavorato su questa opportunità ho messo stop a pregio ed è arrivato un profitto e questa è stata l'unica opportunità di maggio sull'euro dollaro con il metodo cash ha consentito appunto ad un risultato e ne ho parlato durante i live delle 16 e 30 quindi potete andare a ricercare nelle live alla data intorno al 24 di maggio ok successiva perché ne ho parlato se l'ho gestita vediamo un po' qualche ora andate in profitto è probabile che ne avrò parlato proprio il giorno 3 di maggio ecco perché il mercato poi si è sviluppato alle 14 quindi ho fatto in tempo con la live delle 16 e 30 a parlarne va bene quindi potete trovare qualche traccia in modo da trovare qualche altro elemento questa è stata l'unica opportunità di maggio su euro dollaro metodo cash che ha generato un largo profitto le altre opportunità hanno generato piccole spese allora sterlina dollaro andiamo a vedere un po un po' di dettagli no come queste opportunità si formano vediamo che il contesto all'interno del quale l'opportunità si è formata è un contesto valido avevamo una barra composta che aveva liquidità si è spostata si è spostato il mercato e poi aveva avevamo con la nuova barra prese di profitto ridotte formatevi sempre un'immagine di come l'opportunità si poteva diciamo sviluppare al momento sul momento perché naturalmente quando noi vediamo i dati così vediamo le cose a cose fatte vediamo tutti i dati dobbiamo imparare poi a ricercare queste opportunità durante lo sviluppo questo è un lavoro che poi si fa osservando il mercato giorno per giorno o eventualmente facendo un po' di esercizio pratico con il simulatore va bene allora spinta di liquidità congestione nuovamente una congestione spostata sui massimi che anticipa un po' un breakout di volatilità non è proprio il massimo ma è un'opportunità comunque valida ricordo di aver lavorato su questa opportunità che risale al 15 di maggio ok e qui praticamente io non ho potuto mantenere lo stop a pareggio perché perché quando ho chiuso il mercato aveva avanti tipo 3 4 pip troppo poco per conservare uno stop a pareggio quindi semplicemente ho chiuso e poi dopo il mercato del partito e questa cosa può capitare può capitare periodicamente e se capita perché abbiamo esercitato il nostro controllo sul rischio va bene così ok nel senso che non dobbiamo mai rincorrere le opportunità non dobbiamo mai lavorare per stare al mercato a tutti i costi se vediamo che le condizioni sono più complesse ci dobbiamo sempre ricordare che le opportunità migliori si sviluppano bene e in modo chiaro fin dall'inizio e quando vediamo condizioni più complesse e pensiamo di esercitare il nostro controllo sul rischio facciamo sempre sempre bene ok in questo caso quindi ho chiuso poco prima se avessi aspettato un po di più il mercato avrebbe sviluppato una decina di pip e avrei potuto mantenere il mio stop a pareggio ok non l'ho fatto perché chiudo in genere un'oretta prima delle notizie qui vedete che le notizie sono iniziate alle 14 e quindi mi sarei assunto un rischio troppo elevato dovete anche considerare che chi opera con un capitale di una certa importanza deve stare più attento a preservare il capitale perché naturalmente sfidare un'opportunità di questo tipo può andar bene una volta ma poi quando non va bene diventa come dire ci fa sfuggire il nostro controllo se noi perdiamo il controllo sul rischio perdiamo il controllo sull'attività e quindi ogni volta che vediamo all'orizzonte questo problema dobbiamo fermarci prima non dobbiamo mai commettere questo errore perché quando lo commettete no perché magari il dialogo interno vi porta a dire no ma magari ci lavoro perché se il mercato fa questo fa quello no allora a quel punto poi sperimenterete quelle che sono le ferite che il mercato ci infligge insomma ecco e quelle ferite in una certa misura poi ci sono utili perché ce ne ricordiamo sempre ce ne ricorderemo sempre io stesso mi ricordo di esercitare il mio controllo sul rischio perché ho le mie ferite perché ho provato a sfidare le opportunità più rischiose e il mercato mi ha bastonato tanti anni fa quando ho iniziato e queste bastonate poi sono utili perché ce ne ricordiamo non ce ne dimentichiamo più quello che ci insegnano le ferite nessun'altra lezione ci insegna insomma ecco e quindi ci ricordiamo bene di non ricommettere quell'errore soprattutto se poi lavoriamo con un capitale di una certa importanza va bene ok quindi la reazione era diciamo di questo tipo io ho preferito guadagnare lo stop a pareggio ed è stata secondo me la scelta migliore andiamo a vedere un'altra opportunità questi qui con la bagnarina sono altre opportunità basate sui pivot e ne parleremo insomma in un altro video spinta di liquidità in questo caso abbiamo un contesto basato su due congestioni la prima congestione vedete io qui ho messo i numeri così potete vedere anche il contesto cioè all'interno del quale il mercato si trova siamo dopo lo sviluppo di un segmento di trend il mercato sta collassando quindi in fase di rallentamento è un punto in cui il mercato può rallentare entrare in congestioni come ha fatto o può poi accelerare sviluppando un alto segmento di trend quindi la congestione qui cosa ha fatto non ha sviluppato il breakout di volatilità e quindi praticamente gli ordini sono stati cancellati o comunque li avrei cancellati adesso non ricordo se su questa opportunità nello specifico ho lavorato noi dobbiamo sempre studiare tutte le opportunità su quali lavoriamo ma anche quelle che ci sono sfuggite e anche quelle che poi scartiamo all'operatività questa no come ho detto è un'analisi dei dati quindi prendiamo i dati e studiamo tutti i dati possibili più dati abbiamo più dopo saremo competitivi al mercato ok quindi prestiamo attenzione a quelli che sono i piccoli dettagli che fanno tutta la differenza il giorno dopo era possibile effettivamente un altro setup ma il mercato si è sviluppato in modo molto caotico questo contesto che presenta spinta di liquidità e doppia congestione è un contesto valido ai fini del metodo cash e talvolta porta anche a ottime opportunità in questo caso invece ha sviluppato delle false rotture sui massimi vedete e poi il mercato qui è tornato indietro quindi semplicemente avremmo chiuso con la regola di 10 pip quindi ho chiuso a 10 pip e finiva lì insomma non c'era più null'altro da fare andiamo a vedere un'altra opportunità la quarta vedete la quarta opportunità dove si trova il mercato in congestione sta iniziando a spingere un po' di liquidità abbiamo quindi una barra di trend seppur inside rispetto a tutto il resto e qui prese di profitto ridotte ok si vede meglio se metto in secondo piano il pallino ecco qua vedete barra di trend e le prese di profitto ridotte qui abbiamo quindi la spinta di liquidità abbiamo una congestione molto con dei range molto limitati e questa è una condizione che a noi piace molto e il mercato poi cosa ha fatto ha sviluppato un'ottima reazione sistemica cioè non c'erano notizie e il mercato si è sviluppato in modo pulito praticamente il breakout di volatilità si è configurato correttamente c'è stato un pivot una falsa rottura di due pip e mezzo nel nostro setup quindi praticamente nulla alle 14 dopo le 14 alle 15 praticamente se lo possibile era possibile lo stop a pregio e si poteva aggiungere a fine giornata hanno un risultato di 30 pip che non costituisce profitto ai fini di questo metodo quindi avremmo ottenuto lo stop a pareggio infatti se ricordo bene ho lavorato anche su questa abbiamo chiuso poi il giorno dopo altra opportunità valida che appunto su questa falsa rottura ha sviluppato un profitto a 40 pip basta che voi andate alla live del 28 di maggio ok e probabilmente ne ho parlato e ho spiegato appunto l'operatività mostrando anche i risultati va bene e questo è quanto questi sono stati i dati di maggio su sterlino dollaro per quello che riguarda l'operatività del metodo cash poi vedremo altre opportunità che sono emersi a maggio basate sui pivo e basati magari altre opportunità basate su altri metodi ma in questo periodo il metodo cash è stato usato maggiormente perché è il metodo che si che consente di operare bene con continuità quando c'è poca liquidità al mercato quindi in questo caso ne parliamo di più perché semplicemente produce molte più opportunità rispetto agli altri metodi va bene rifletterci poi ci vediamo nei prossimi video buon lavoro e presto